Un altro utilizzo non convenzionale delle tour sticks è quello di posizionarle durante la pratica a una quindicina di metri da voi, mettendole in direzione del bersaglio. Questo esercizio può essere utile per chi ha problemi con la direzione iniziale e vi aiuta, magari con l'ausilio di una telecamera dietro di voi a riprendere, per capire se i vostri colpi partono in direzione del vostro bersaglio. Grazie a tutti.